ciao a tutti oggi prepareremo la coppa del nonno il tempo di preparazione della ricetta è di 4 minuti più due ore per il raffreddamento ingredienti sono panna fresca caffè espresso ristretto freddo e zucchero semolato andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 finiamo un po sul fondo del boccale lo zucchero posizioniamo la farfalla versiamo la panna chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare per due minuti a velocità 3 e mezzo questo punto dal foro del coperchio aggiungiamo il caffè con le lame in movimento azionando il bimbi a velocità 3 e mezzo senza il postare il tempo fermiamo il bimbi la coppa del nonno è quasi pronta trasferiamola in congelatore per almeno due ore prima di servirla coppa del nonno grazie e alla prossima ricetta coppa del nonno grazie e alla prossima ricetta